Mi sono, devo dire, emozionato sia con Ambarag sia con Raoul, perché nelle scene che ho appunto recitato con loro li ho sentiti, ho capito che erano nel film, non so come dirtelo, da collega a collega. Nella scelta io ho questo ruolo che mi sono ritagliato perché a un certo momento, non c'è nel testo pirandelliano, il delegato di polizia esiste, ma ha solo una scena quando accompagnano la signora a casa. Allora mi è venuta l'idea di creare questo personaggio che fosse un po' il punto di confronto fra marito e la moglie. Suo marito mi ha parlato di lei. Ognuno di questi personaggi ha un momento di rivelazione a questo uomo della legge, del proprio stato d'animo, del proprio aspetto, insomma, e credo che sia un personaggio da questo punto di vista molto utile drammaturgicamente.